eccoci qua buongiorno buongiorno benvenuti in abruzzo questa mattina siamo in abruzzo che bello adesso vediamo un attimino chi si collega siete pronte per cucinare? tutti pronti per cucinare delle meravigliose polpette che facciamo? polpette di zucchina grattugiata ricotta parmigiano uova e pan grattato fantastico poi mettiamo anche la ricetta allora invitate tutti i vostri amici oggi siamo all'aperto perché Gabriella purtroppo devo stare all'aperto con la mascherina per salvaguardare il mio cuore bellissimo e noi siamo con lei all'aperto ma hai un ospite stamattina? eh sì abbiamo l'ospite la mia sorella Nadia ecco qua le sister ecco qua abbiamo le due sorelle la bionda e la mora e guardate qua cosa ha realizzato Nadia per dopo per l'imbiattamento spettacolo non perché non per altro mia sorella fa la fioraia quindi trovate l'ossi delle creazioni by Nadia Misery eccola qua quindi più creativa di così ecco vedi tac allora vediamo un attimino che le nostre colleghe Cinzia, Chiara, Veronica, Palma e Antonio insomma che condividono il link e poi partiamo e poi partiamo adesso magari le persone sono al mare con queste polpettine che ci si può fare? possiamo andarci al mare mangiarcelo sotto l'ombrellone un aperitivo anche fredde no? anche fredde per l'aperitivo una cena veloce si ritorna dal mare veloce veloce due polpettine un pranzo veloce in montagna un osfizio per i bimbi un osfizio per i bimbi in modo che possiamo far mangiare anche le verdure ai nostri bimbi ecco qua perfetto perfetto allora ci siamo Cinzia puoi girare il link e vediamo un attimino intanto ripetiamo un attimino gli ingredienti vai queste sono due zucchine grattugiate 250 grammi di zucca abbiamo messo un fiore di zucca ok poi 250 grammi di ricotta un po' di parmigiano grattugiato un uovo e 50 grammi di pangrattato ottimo e poi ci serve pangrattato per impanarle da un pizzichino di sale ok perfetto allora vediamo un attimino se ci vedono le nostre amiche perché non leggo bene tutti i commenti eccoli qua ok manuela serra silvana deminelli vediamo che dice silvana ha scritto mia figlia mi ha già detto che gliele devo fare subito quando è che gliele devi fare gliele devi fare ecco qua ci abbiamo maria petrilli non leggevo i messaggi adesso li leggo perfetto perfetto siamo pronti possiamo partire avete girato il link citate il via io direi che possiamo partire perché tanto poi le nostre amiche che sono giustamente in vacanze al mare se le vanno a rivedere con calma allora facciamo così gabriella si occupa dell'impasto e nadia si occuperà della frittura fantastico allora abbiamo già trattugiato la nostra giustina mettiamo dentro la nostra ricotta paolo dice tra una settimana cosa gli cucini paolo per te un menù stiamo aprendo ok allora vai mettiamo un po di sale ciao veronica moro quindi zucchine e un po di sale si la ricotta aspetta che mi posiziono mettiamo l'uomo facciamo vedere meglio qua oggi abbiamo le le sorelle Kessler le sister misery un po di parmigiano quanto parmigiano erano 50 grammi ok ciao morena taggate taggate che poi quando tornano dal mare si vedono questa 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 bella ricetta ecco qua quindi l'impasto deve essere così mettiamo un altro po di pan grattato vedete bene diteci se vedete bene magari ci sono un po di rumori perché siamo all'aperto quindi fa caldo fa caldo fa caldo ma noi noi con magic cooker possiamo cucinare anche se fa caldo scaldiamo un pochettino estando l'olio allora l'olio lo scaldiamo un pochettino perché perché le nostre polpette sono abbastanza morbide quindi hanno bisogno di scaldare qualche minutino l'olio ciao Nadia Misti saluta Silvana ciao ok ecco qua quindi facciamo le nostre polpette e le passiamo nel pan grattato ah che bello e poi indovinate chi è che assaggia io assaggio ecco qua allora non vi preoccupate che è un po morbido perché tanto poi ci va il pan grattato esatto sono giganti queste polpette ce le dobbiamo mangiare gigante allora e queste polpette possono andare bene appunto dicevamo per dice Tito dove vi trovate dove ci troviamo? a Cappelle sul tavo ci troviamo a Cappelle sul tavo in Abruzzo Tito ti stiamo aspettando eh hai capito che mi hanno detto quando hai detto chi mangia tu fulbacchiona mi hanno risposto ahahah è vero è vero è vero mangio io oggi eh 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 e qua abbiamo le nostre polpettine che si vanno vedete com'è veloce praticamente in 15 minuti avete tutto 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 pronto l'olio lo facciamo scaldare un pochettino appunto perché ehm la ricotta è fresca è molto morbida quindi così si rapprende subito giusto? sì 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 ma sono impegnata a fare le pallotte ecco fai le pallotte in Abruzzo si dice le pallotte ahahahahah ok ci siamo io direi che che il nostro Nadia Miss ehm puoi cominciare Nadia a friggere? va facciamo vedere intanto che Gabriella va avanti ecco qua vedete l'olio non è caldissimo infatti mettendolo all'interno ecco qua li mettiamo nell'olio oh copriamo con il nostro cacchio è la solita assaggiatrice eh 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 sì lo copriamo bene con il coperchio e fiamma come deve essere Nadia? alta fiamma alta allora io direi una cosa siccome c'è vento e noi abbiamo il nostro fornelletto portatile abbiamo qui un eh eh sofisticato ultima generazione proprio veramente un paravento che vi consigliamo signori perché è di ultima generazione vai col paravento quando bombrate le pentole coperchi magic cooker vi arrivano delle scan non le buttate perché facciamo il paravento la nostra azienda pensa a tutta il paravento magic cooker proprio sofisticato ma funzionale eccoci qua allora fiamma alta fiamma alta e possiamo addirittura aggiungere mentre comunque eh cuciniamo perché il nostro coperchio Nadia tu lo sai cosa fa il nostro coperchio? Oddio non mi fa parlare dai dai che si agita adesso adesso facciamo facciamo un applauso fate tutti quanti un applauso a Nadia che si che si agita il nostro coperchio cucina a basse temperature senza bisogno di rimanere chiusa ermeticamente come quando cucinate al forno che non si può aprire perché si si raffredda non ricresce con magic cooker questo non c'è bisogno si può fare tutto tutto mantiene le temperature basse e quindi i cibi più sani ecco questa è la cosa principale possiamo mangiare il fritto quando vogliamo perché non è di alta temperatura e non fa male soprattutto esatto ma soprattutto non dobbiamo buttare l'olio perché l'olio è riutilizzabile brava ha studiato ha studiato vedete Nadia ma volete sapere una cosa Nadia si trova al sesto livello della nostra raccolta punti nooo fantastico guarda come Gabriele raccolta punti Gabriele spiegaci sta raccolta punti intanto che aspettiamo facilissimo ecco come Nadia ha provato il coperchio ha fatto tanta pubblicità ne ha parlato alle sue amiche alle sue clienti visto che ha un negozio e fa conoscere il magic cooker a tutti e quindi lei prende clienti nuovi raccoglie punti Katia Cavallari dice che lei ha fatto una torta nella perfetta questa pentola qua ci si può fare qualsiasi esatto cosa ci si può fare io ho già fatto la torta di compleanno il pan di spagna ci puoi fare la trippa lo spezzatino la pasta il fritto possiamo fare una pizza le cotolette tutto l'unica cosa che non ci si fa in Abruzzo gli arrosticini gli arrosticini purtroppo assolutamente no però ho provato a fare gli arrosticini di pollo con la nostra griglia ed è fantastico provate anche voi i spiedini i spiedini arrosticini di pollo cose che magari non volete accendere il carbone però per gli arrosticini è sacco santa hai sentito Katia? eh? la Nadia ce la è rimoscia come te bellissima bellissima allora vedete potete alzare il coperchio quando volete vogliamo sbirciare? sbirciamo sbirciamo guardate qua vedete? li lasciamo belli cucinare con calma che sono di ricotta e sono molto molto teneri allora Gabriele ma se uno fa la raccolta punti poi ha qualche obbligo? no assolutamente no l'unico obbligo che ha cucinare con magic cooker cioè quello ormai è un sacrilegio bisogna farlo quello è un piacere però no 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 io dico ai miei clienti se lo comprate e non lo usate me lo ridate bravo quindi ho i soldi ma il coperchio va usato bravissima e chi è che insegna i nostri clienti ad usarli? noi noi potete chiamarci potete staff magic cooker ecco poi questo gruppo fantastico dove facciamo tutte queste dirette solo chi è proprio che non vuole cucinare non impara esatto qua tutti quanti imparano mi sono spariti tutti i commenti aspetta che ci riprovo quanti ne siamo? allora siamo pochini siamo 27 ma il discorso è che la mattina la gente va al mare adesso siamo in ferie quindi noi lo sappiamo noi continuiamo lo stesso a fare le dirette poi le vedranno con calma esatto voi taggate taggate le vostre clienti le vostre amiche perché poi stasera quando tornano dal mare faranno le polpette si guardano le polpette le faranno esatto ma soprattutto se avete degli amici che gli volete tanto bene e dovete fare dei regali fate un regalo magic cooker abbinata ad un fiore senti perché devono regalare magic cooker? perché con magic cooker perché è una svolta della vita per me è una svolta è stata una svolta bellissima ecco e allora non solo tu hai fatto raccolta punti e avuto i regali si gratis Nadia quando ti sono arrivati i regali? quando ti sono arrivati i regali? hai dovuto pagare qualcosa? assolutamente no i regali sono regali mica si pagano quando ti viene a trovare qualcuno e ti porta il regalo si paga assolutamente no il regalo è regalo il regalo è regalo infatti come succede di solito quando facciamo la raccolta punti al supermercato poi bisogna pagare un piccolo contributo magic cooker no assolutamente no io non la pago oggi magic cooker è il top è tutto gratis quelli che sono presenti qua dicono che hanno rinunciato ad andare al mare per vedere la diretta bravi o perché magari hanno il mare troppo lontano e cambia andola spegniamo un attimo per alzare il nostro coperchio e le giriamo vai oh che bello sono bellissimi oh spettacolo guardate lì sono fantastici guardate le possiamo fare più piccoline tipo lì della scolana piccoline per un aperitivo se avete il sac a poche si può fare a rosellina si può fare in vari modi queste polpette Nadia ma tu devi venire a lavorare con noi quando non vendi fiori vieni con noi va bene quando non fai le composizioni guardate che spettacolo e poi lo metteremo in questo meraviglioso piatto preparato esclusivamente da Nadia per noi per Chiara per Chiara Chiara dove sei? lì ci sei? Chiara si trova in un posto sperduto dove la connessione non c'è e quindi è un problema poverina se lo guarderà dopo in seconda battuta allora chiediamo un attimino alle nostre amiche vi piace come idea un'idea fresca veloce un'idea fresca veloce per una cena per un aperitivo per un pranzo al mare per far mangiare le verdure soprattutto ai bimbi che magari fatte in polpettine fritte sono più deliziose più gustose e così mangiano un po' di verdure in ogni occasione va bene Chiara nel burundi dice Gersonina e si e si adesso si arrampica su un albero e poi dopo ci che segnala Bella Gabri complimenti complimenti alle sister guardatela eh così oggi siamo all'aperto e facciamo queste polpettine quindi anche da fredde si possono mangiare sono stupende io le mangerò oggi sia calde che fredde e ora ragà quando ci facciamo mo mi tocca io l'ho provata a fare ieri sera e oggi l'ho lasciata a casa questa sera fredda e ce le mangiamo esatto abbiamo Carmelina dalla Germania che ci segue mamma mia la Germania che bello sicuramente sarà fresca ecco Nadia Nadia adora la Germania tra poco partirà siamo nate in Germania sono nate in Germania queste due sorelle quindi tra poco partirai per la Germania e quindi raggiungerò mia figlia che farà il compleanno poi ecco ecco ciao Palma stiamo facendo delle polpette ciao Palma veloci e fresche e salutari e salutari soprattutto sì ah ecco grazie per il sacrificio che fai per noi io io farò questo sacrificio di mangiare queste polpette prego guardate lo faccio solamente ed esclusivamente per voi è vero che lo facciamo per noi facciamo col cuore proprio col cuore allora avete qualche domanda nel frattempo da fare ragazze fateci fateci sapere ehm se vi se volete acquistare il nostro tecnologicamente parlando tecnologico paravento se volete acquistare il nostro paravento basta cliccare sull'icona guardate qua che meraviglia ma che meraviglia questa pentola Gabri ma questa pentola va anche a induzione e poi fino stasera alle 23.59 e in offerta giusto bravo domani cambieranno tutte le promozioni abbiamo delle offerte straordinarie che sono hai spento? sì abbiamo spento pensate che ore sono? pensate un attimino in quanto poco tempo abbiamo realizzato le bolbette e cotte velocissime 2 minuti per fermare i fumi e poi lo togliamo ok questa pentola è in offerta a 79,90 giusto Katia? mi prendi in preparata mi sembra 69,90 69,90 ecco 69 oppure abbiamo la nostra la 20 la 20 la 20 sempre fonda induzione fantastica con copacchio 21 a 49,90 di queste a go go a go go bene allora tiriamo fuori le polpette arriva vai Nadia tira fuori queste meravigliose polpette spettacolari spettacolari guardate che belle dorate dorate ferme abbiamo fatto le polpettone questo veramente sono polpettone Gabri pensavo che mi facevi delle polpettine adesso dovrò aprire di più la bocca ma guardate l'olio guardate l'olio 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 trasparente questo olio lo filtriamo lo facciamo raffreddare lo filtriamo e lo rimettiamo nella bottiglia e lo possiamo riutilizzare veramente fantastico mamma mia mamma mia aspetta eh voglio vedere guarda là guardate qua che bello oh che sacrificio che devo fare ragazzi purtroppo qualcuno lo deve fare vai vai con l'impiattamento guarda là guardate qua che bello che sacrificio che devo fare ragazzi vai con l'impiattamento ti fa hai chiamato l'artista per completare l'opera no esatto si completa l'opera che poi io la finisco guardate velocissimo 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 non vedo che ore sono ma credo che non siano passati neanche 20 minuti ecco qua e voilà no no eh chiamate le vostre consulenti per sapere di più del paravento il paravento è in omaggio insieme al coperchio e la pentola pensate pensate insieme al coperchio e la pentola avrete anche il nostro meraviglioso paravento tecnologico allora è tutto per oggi quando è che devono fare la raccolta punti? muoio dovete fare bravissime ecco e prenotate le nostre pentole in offerta muo 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 perché stanno finendo ci sono delle queste pentole meravigliose io non le lascio più tutti i giorni sono sulla mia fiamma bravissima 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 ecco allora che mo l'abbiamo piatto questo piatto per voi questo piatto l'abbiamo fatto per voi mo mo allora ecco qua con l'inquadratura del nostro piatto vi salutiamo e vi diamo appuntamento a domani pomeriggio con Katia Cavallari con un altro piatto fantastico e approfittate delle offerte che ci sono un bacio ciao 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 Ciao!